Bello qua Cincio che bravo Un ruo dai punta Libre con il cavalli Grazie a tutti dove giocavano i principini con le armi da guerra ahia pensa te, ciccio, ora ripartiamo te la fai la fotino allora? vai vai oh oh oh, troppo veloce oh, molto veloce ahahahah ahahah ahahah è buona troppo bello troppo bello ahahah no Andrea la bellezza la bellezza beh, io tengo qui come 50 la bellezza la bellezza però lui è molto intelligente davanti ma se non mi cambia mano se lo accorgi subito la frena quindi ma te lo tieni bene magari vista qualche bambina te guida bello 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 io te li hai coletà bello 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 Adri pensate perché stanta rata poi andiamo a caminare poi andiamo a caminare con il autobus o andiamo caminando un rato dieci si vediamo ok si bravo pure checchio iscriviti ciao caserta ciao caserta ciao caserta ciao caserta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti